Trent'anni fa sembrava quasi un passatempo per degli studiosi, in realtà il rapporto sull'immigrazione del ceto studi Idos era l'inizio di un approccio serio ad un fenomeno che era già importante allora, purtroppo ancora sembra qualcosa che dobbiamo scoprire e che è una realtà evidente del nostro paese, quella dell'immigrazione. Dobbiamo ringraziare tanto Franco e Lidia Pitau, con questo anche un ricordo grato veramente del suo servizio, li dobbiamo ringraziare perché hanno con tanta intelligenza in questi anni portato avanti una indagine rigorosa, scientifica che aiuta a comprendere un fenomeno, altrimenti c'è soltanto la paura che non fa comprendere, le opportunità, anche le negligenze, i rimandi per cui sembra sempre che siamo nell'emergenza. Forse rileggere questi 30 anni dovrebbe farci vergognare anche di ancora tanta insipienza, di tanta poca lucidità e anche di tante occasioni perdute e forse di fare finalmente una seria scelta di integrazione intelligente che tolga di paura e che ci permetta di vivere un fenomeno così importante. Quindi grazie al rapporto e leggiamolo un po' di più e che tutti lo leggiamo un po' di più per capire e per rispondere meglio a questa grande realtà che è anche una grande opportunità.